guardate il palazzo guto dall'interno della piazza dell'interno che c'è questo palazzo poi abbiamo questa scala che ha ricevuto un film mi ricordo come si chiamava il film è molto importante un film diciamo mi ricordo che era solo una donna no vabbè comunque non mi ricordo del titolo però guardate che bella scala mi sembra che l'attore era desica guarda che bello ma c'è stato pure un film il film di desica forse ma sicuramente dove lui questa questa immagine di questa scala che fu girata in quel film tanti anni fa guardate qua che bello che entrata guardate bello qua